Il Taranto in Coppa Italia e il Rosso Blu di Maiuri superano il turno battendo 2-0 allo Iacovone il Real Metapontino. Giungono note positive dall'esordio stagionale, la squadra si dimostra solida, organizzata e con individualità di spessore. Vittoria meritata e convincente, Ancora e Clemente, i marcatori con una rete per tempo. Il 4-4-2 di Maiuri e il redditizio spiccano le prestazioni di Carlotto e Mignogna e quelle del giovane portiere Marani classe 95. I tifosi circa 1.500 sugli spalti espongono uno striscione senza se, senza ma, riaprire subito la curva nord. Questa la cronaca, al quarto c'è un tiro centrale di Clemente parato dal portiere del Metapontino. Al 17-1 il Taranto passa in vantaggio, Ancora lanciato tutto solo da Carlotto dinanzi al portiere avversario, non sbaglia e porta il Taranto in vantaggio, segnando così la prima rete stagionale. Al 23-1 viene ammonito Carlotto in seguito ad una mini rissa a centrocampo. Il Taranto potrebbe raddoppiare già alla mezz'ora, quando Clemente si fa tutto il campo e dal limite lascia partire un secco tiro che si stampa sulla parte interna del palo. Al 34-1 Covelli tutto solo, lanciato sul fio del fuorigioco, manda il pallone di poco a lato. Nella ripresa, al sesto il Taranto raddoppia con una vera e propria magia di Giampiero Clemente. Assist ancora di Carlotto e sforbiciata acrobatica nel cuore dell'area di rigore del Metapontino. Davvero tutto da applausi. All'ottavo ancora il Taranto pericoloso con una sventola dal limite di Mignogna, parata in maniera prodigiosa dal portiere di Gennaro. Alla tredicesimo un cross di Marchitelli, trova pronto lo stesso estremo difensore ad anticipare Mignogna con la punta delle dita. Al sedicesimo su calcio d'angolo colpo di testa di Prosperi che del gol dà soltanto l'illusione. Al diciassettesimo entra in campo Balistreri al posto di Clemente, applauditissimo. C'è tempo per saggiare le doti del giovane portiere Marani che si esibisce un volo plastico sulla conclusione dalla distanza del centravanti Covelli. Taranto batteria al Metapontino 2-0 e tornerà in campo per la Coppa Italia il prossimo 11 settembre. Avversario da stabilire mentre incombe il campionato che inizierà sempre lo Iacovone domenica prossima. Ma Iuri parla di un gruppo solido che così non lo ha mai avuto.